Un personal trainer virtuale che sprona ad avere uno stile di vita più attivo e quindi più sano e virtuoso. Si tratta di Trentino Salute Più, applicazione che una start-up trentina ha sviluppato come contributo alla strategia delle istituzioni sempre più attiva per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e la tutela della salute dei cittadini. Cristiano Mosca, project manager di Trentino Salute Più, spiega così in cosa consiste l'applicazione. In pratica si traduce in un'applicazione per smartphone scaricabile da tutti i cittadini trentini maggiorenni iscritti al servizio sanitario provinciale. Dopo una breve profilatura riguardante i propri stili di vita, vengono proposte delle sfide per la salute. Attraverso un percorso mirato e personalizzato, ogni cittadino può prendere coscienza del proprio stil di vita dal punto di vista della salute e migliorarlo. Trentino Salute Più, presentata anche al primo festival dello sport di Trento, è stata scaricata da migliaia di cittadini in quattro mesi dal suo lancio. Le sfide proposte servono a stimolare comportamenti virtuosi a livello alimentare, sportivo e anche civico. Le sfide personalizzate riguardano i pilastri della salute stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi possono essere sfide riguardanti uno dei nove comparti dell'alimentazione, oppure sfide riguardanti il movimento, l'alcol, il fumo e l'inclusione sociale, rappresentata da volontariato e associazionismo. L'app per diffondere i migliori stili di vita è anche un esempio dei risultati concreti raggiunti dai forti investimenti che le istituzioni trentine hanno fatto per stimolare sul territorio la nascita di imprese innovative. Non a caso, proprio Trento è fra le province con la maggior densità in Italia di start-up, anche grazie all'attività di enti attivati ad hoc. Trentino Sviluppo, come agenzia di sviluppo territoriale, ha il compito non solo di sostenere le imprese in tutto il loro ciclo di vita, quindi dall'idea alla nascita, allo sviluppo e alla maturità, ma ha anche il compito di collaborare a livello territoriale con tutti gli stakeholder presenti sul nostro territorio. Tutto questo per rafforzare la competitività del nostro territorio anche dal punto di vista di innovazione, di ricerca e di formazione. I punteggi raggiunti nelle sfide di Trentino Salute Più possono essere tradotti sia in sconti per prodotti o servizi coerenti con gli obiettivi delle sfide stesse, sia in bonus da destinare ad associazioni o progetti sociali che potranno così accedere a finanziamenti o agevolazioni previste dalla provincia.